L'Italia è una repubblica giovane. Tutti noi in questo percorso abbiamo capito la vera importanza dell'Italia. Chiamo partiti dalla fondazione di Adonanzoli. Un personaggio nuovo di cui non sapevo nulla. Era sempre molto sorridente, empatico e molto legato alla famiglia. Era un politico. Ha combattuto contro il periodo fascista, lavorando in clandestinità. Tant'è che alla sua morte gli è stata dedicata una fondazione. Ci hanno molto capito le storie che ci hanno raccontato i nipoti sulla sua vita privata. Ha superato molte cose difficili come l'incarcerazione. È riuscito ad andare avanti e a guadagnare il titolo con la quale oggi si ricorda. Abbiamo imparato il carattere di questa persona, l'abbiamo conosciuta meglio. Partendo dalla vita privata, arrivando alla vita pubblica, approfondendo soprattutto la fondazione. Che è situata qui a Napoli. Che prende il suo nome per il suo impegno e la sua determinazione. Il risultato è stato quello di scoprire un nuovo personaggio dalla vita affascinante. Abbiamo capito dalla vera importanza dell'Italia e della nostra Repubblica.